Ufficializzati ieri in maniera piuttosto fredda, a differenza degli altri anni, i gironi e calendari di serie D per la stagione 2022-2023. 9 i gironi dei quali ha idea 20 squadre con un organico definitivo di 166 club. Tra queste figura anche il jarre inserito nel girone I ma ammesso con riserva in virtù del decreto Tar Lazio dopo il ricorso degli etnei. Alla finestra ci sono anche Teramo e Campobasso, infatti il prossimo 25 agosto il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sulla riammissione in C delle due formazioni che hanno provveduto inoltre a chiedere in subordine l'iscrizione alla prossima serie D. E poi c'è da valutare anche la posizione della neonata SS di Città di Teramo che sta lavorando anch'essa per un posto in quarta serie. Il calcio giocato invece dice che il 4 settembre si disputerà la prima giornata di campionato. Tra le sostre previste 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della rappresentativa serie D alla prossima edizione della Via Reggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi, 21 dicembre e 6 aprile 2023. Per le abruzzesi, Chieti, Avezzano, Pineto, Notaresco e Vastese sarà ancora una volta girone F dove sono state inserite inoltre quattro squadre laziali, Roma City, Ex-Fugi, Nuova Florida, squadra di Ardea, Trastevere e il ritorno a distanza di una stagione della Cinzia al Balonga. Se le formazioni marchigiane fanno Monte Giorgio, Porto d'Ascoli, San Benedettese, Tolentino e Vigor Senigallia, due Lemolisane, Termoli e Vastogirardi e una campana il Matese. Nessun derby abruzzese alla prima, il Chieti del neopresidente Ettore Serra riceverà l'Angelini il Vasto Girardi del tecnico Tommaso Coletti, gare casalinghe anche per Pineto e Notaresco che riceveranno rispettivamente Termoli, neopromossa e Matese dell'ex Vittorio Esposito. Trasferte invece per Avezzano a Porto d'Ascoli, remake del primo turno di Coppa Italia e per la Vastese a Tolentino. Primo derby stagionale alla quinta, quando al Dei Marsi ci sarà Avezzano-Vastese, sarà il primo di due derby consecutivi per i Marsicani che sette giorni dopo faranno visita al Chieti. Alla settima, primo derby anche per il notaresco del tecnico Tiziano De Patre che al Savini riceverà il Chieti. Rosso-Blu che una settimana più tardi, sempre tra le Muramiche, riceveranno l'Avezzano. A fine ottobre, primo derby anche per il Pineto di Daniele Amaolo che al Mariani Pavone incrocerà i cugini del Chieti. Derby anche al Giro di Boa, quando si sfideranno il 21 dicembre all'Aragona Vastese, allenata da Giuseppe Ferrazzoli e Pineto. Al netto di sorprese, Covid in primis, il campionato si concluderà il 7 maggio, prima di dare via play-off e play-out. Fissate anche gli orari ufficiali, dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre, ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre il 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle ore 16. Intanto, domenica 21 agosto, primo turno di Coppa Italia, esordio stagionale per l'Avezzano del presidente Gianni Paris, che sfiderà a Riviera delle Palme il Porto d'Ascoli. Fischio d'inizio, ore 16.